Riconosciuto all'unanimità il debito fuori bilancio per il pagamento del gettone di presenza ai consiglieri comunali nell'anno 2015, un adempimento di legge quantificato in poco meno di 10.000 euro compresa IRAP da ripartire tra i consiglieri. Tuttavia Pippo Midili ha contestato il principio e il modo di procedere dopo aver puntualizzato che il debito fuori bilancio non è stato creato dal Consiglio Comunale ma fa parte di un fondo comune per tutti gli organi istituzionali. Gli interventi che si sono succeduti in aula hanno fatto emergere comunque la volontà di destinare le somme a fini sociali e a tal proposito potrebbero essere dirottate verso l'assessorato ai servizi sociali di Palazzo dell'Aquila. Nell'ambito dell'ultima seduta consigliare Massimo Baglia ha chiesto di sottoporre l'esame dell'aula e il regolamento cimiteriale. Rosario Piraino ha esposto un'interrogazione presentata insieme a Maria Magliarditi circa l'assistenza domiciliare ai bambini disabili. Sul punto ha risposto l'assessore Giovanni Di Bella che ha affermato come bambini affetti da disabilità, come i disabili che rientrano nella casistica prevista e concordata con il Dipartimento di neuropsichiatria infantile. Servizio ed assistenza siano garantiti dal distretto sociosanitario 27 da circa 10 anni. Di Bella ha fatto sapere che il bando di gara è già pronto e che si procederà alla giudicazione definitiva dopo che sarà approvato il bilancio pluriannale 2016-2018. Dopo un intervento di protesta del consigliere Nino Italiano per l'impossibilità dei consiglieri di accedere all'interno dell'area portuale per il parcheggio delle auto in occasione delle sedute di consiglio comunale, Pippo Midile ha preannunciato la presentazione di una mozione per modificare il regolamento comunale nella parte che riguarda le presenze e le entrate ed uscite dall'aula a causa del continuo via vai che si registra nel corso dei lavori. E l'assottigliarsi delle presenze ha portato il Presidente Gianfranco Anastasi a chiudere la seduta rinviandola adatta da destinarsi.